ciao a tutti oggi prepariamo una torta di mele e yogurt una ricetta davvero semplicissima e molto molto veloce io l'ho preparata per i miei amici e ho ricevuto un sacco di complimenti tante volte le ricette più semplici sono davvero le migliori ingredienti per questa torta 2 mele 3 uova 125 g di yogurt bianco 70 g di burro 150 g di zucchero di canna 150 g di farina 00 70 g di mandorle tritate una bustina di lievito zucchero a velo mescolate tutti gli ingredienti con un'impassatrice e la torta si farà davvero in un attimo partiamo naturalmente dalle uova con lo zucchero iniziamo a far lavorare la frusta per circa un minuto in modo che appunto uova e zucchero montino leggermente poi aggiungiamo il burro fuso io l'ho sciolto in un pentolino aggiunto il burro mettiamo le mandorle io le mandorle tritate in realtà me le faccio da sola perché compro le mandorle intere e poi le sminuzzo con un mixer aggiunte le mandorle aggiungiamo il vasetto di yogurt bianco che normalmente sono 125 g aggiungiamo anche la farina se avete un attimo di tempo in più setacciatela così sarete sicuri che non si formeranno dei grumi e per ultimo naturalmente aggiungiamo il lievito l'impasto è pronto ora andiamo a tagliare la mela io vi dico la mela perché questa sera ho delle mele golden molto molto grandi e credo che una per la mia torta sia sufficiente la pulisco naturalmente e la riduco a spicchietti abbastanza sottili se fate passare un po di tempo da quanto da quando tagliate la mela a quando la mettete nella torta mi raccomando qualche gocciolina di limone in modo che gli spicchietti non anniriscano poi prendiamo il sodino e io ci metto sempre la carta da forno bagnata e strizzata bene in modo che così sia morbida e si possa sistemare bene e prenda la forma di tutte le vostre teglie ci sistemiamo naturalmente la base per la nostra torta che come vedete molto molto morbida la livelliamo e mettiamo per ultimo in superficie gli spicchietti di mela questa è una torta davvero semplicissima si realizza in pochissimo tempo gli ingredienti di solito li abbiamo sempre in in casa ed è davvero molto molto buona nella sua semplicità forno preriscaldato a 180 gradi per 40 minuti come si sarà raffreddata un po' la abbelliamo con lo zucchero a velo che diciamo la verità ha sempre il suo perché su un qualsiasi torta e il risultato finale è pronto la nostra tortina ha un sapore molto particolare saranno le mandorle sarà lo zucchero di canna comunque vi assicuro è buonissima spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta arrivederci